Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Due settimane fa vi ho raccontato una storia, quella dedicata alla città di Centralia o Centraglia che dir si voglia, in cui abbiamo visto come talvolta per quanto l'uomo abbia acquisito nuove conoscenze, nuove tecnologie, ogni tanto semplicemente non è in grado di opporsi alla natura. Certo, in quel caso il danno se l'era un po' fatto da solo, vi rimando a quella Aperistoria, ma è ovvio come, nonostante tutte le nostre conoscenze, non sempre riusciamo a riportare le cose come vorremmo. In realtà, che la natura ci devasti, purtroppo lo vediamo molto spesso, e con i cambiamenti climatici la cosa sta diventando sempre più frequente, tra uragani, terremoti, sbalzi di temperatura, tutte cose a cui l'uomo in qualche modo cerca però di rispondere, talvolta potendo solo ricostruire dopo che il danno è già avvenuto. Ci sono dei casi però in cui la natura è stata talmente devastante che l'uomo semplicemente non può più fare niente e deve abbandonare quello che aveva costruito, a volte dove aveva vissuto per tanti, tanti anni, e fuggire senza poter fare nient'altro. La storia di oggi è ambientata su una piccola isoletta, l'isoletta di Montserrat che si trova nei Caraibi, lo vedete qua a fianco sulla cartina, un'isoletta veramente molto molto piccola che però ha una storia lunga. Il nome fa subito pensare a qualcosa di francese? In realtà no, pensate, le fu dato nel 1493 da Cristoforo Colombo che quando la scoprì le volle dare il nome di una collina situata in Spagna su cui era un monastero, per motivi ovviamente religiosi e di buon augurio. In realtà all'inizio la colonizzazione di quest'isola fu abbastanza complessa, si alternarono varie potenze, ad un certo punto divenne pensata addirittura una colonia irlandese, non perché ci fosse uno stato di Irlanda che la potesse rivendicare, ma perché molti irlandesi nel corso del XVII secolo fuggirono da loro terre, per motivazioni religiose, erano cattolici, si trovavano a vivere sotto l'Inghilterra protestante, e fuggirono proprio al di là dell'Atlantico arrivando su quest'isola, dove rimasero per molto tempo. Alla fine, nel 1783, dopo il Trattato di Versailles, entrò ufficialmente a far parte dell'impero coloniale della Gran Bretagna. Ora l'isola da quel momento sostanzialmente è scomparsa dal punto di vista della storia, è un'isoletta piccolina, la popolazione progressivamente si è mescolata tra persone di colore provenienti dall'Africa, che si sono stabilite prima come schiavi e poi ovviamente sono state liberate nel corso del XIX secolo. La curiosità è che ci sono molte persone di origini africane che hanno cognomi irlandesi, perché spesso hanno preso i cognomi delle famiglie presso cui lavoravano, e ancora oggi si parla inglese con una forte inflessione irlandese. Ma queste, ripeto, sono piccole curiosità di quello che potrebbe sembrare il classico paradiso caraibico, in cui vivevano, a metà del 1995, circa 11.000 persone. Negli anni 90 del XX secolo, però, le cose pian pianino iniziarono a cambiare. Innanzitutto l'isola fu colpita da un devastante uragano che la spazzò in lungo e largo con onde alte anche parecchi metri che fecero danni colossali. E forse quello già voleva dire che qualcosa non andava, ma si sa, da quelle parti di uragani ce ne sono, e come sempre capita, la devastazione venne ricostruita. Poi, intorno al 1993-1994, la popolazione iniziò a sentire delle scosse di terremoto. Prima una, poi due, poi tre, sempre più forti, sempre più vicine, in un territorio che, sulla carta, non aveva mai subito degli effetti del genere. In realtà, Montserrat, però, non era solo un'isola, perché aveva al suo interno un segreto. E quel segreto era un vulcano. In realtà, sulla carta non sembrava essere niente di così colossale, tant'è che addirittura veniva chiamato Saufrier Hills, quindi una collina, perché era alto solo un migliaio di metri, ed era considerato un vulcano assolutamente spento, o quantomeno non in grado di eruttare. A metà del 1995, nel giugno del 1995, però, le cose cambiarono. Dopo questi terremoti, improvvisamente, il vulcano iniziò a deruttare, a far colare lava, a lanciare la pilli in ogni direzione, e a riversare tutto il suo contenuto, il cenere, l'impendo di cenere e il ceno, sui territori vicini. Il problema è che la città più importante, nonché la capitale dell'isola, che era intanto diventata autonoma, pur facendo parte del Commonwealth, cioè Plymouth, si trovava esattamente alle pendici del vulcano, e la popolazione dovette essere presa e trasportata via. Il vulcano, che si sperava in qualche modo si potesse potesse arrestare la sua furia, nei giorni, nelle settimane successive, continuò con le sue eruzioni, lanciando materiali piroclastico in ogni direzione, e ogni volta che la popolazione cercava di tornare verso la città, credendo che in qualche modo l'eruzione si fosse arrestata, per ricostruire quello che era andato distrutto, ogni volta il vulcano riprendeva e tutti dovevano tornare a fuggire. Ad un certo punto, dopo alcuni mesi, ci si rese conto che quell'eruzione sarebbe stata devastante, e progressivamente, senza più arrestarsi, si estese su tutta la città, che ormai era stata completamente abbandonata con la popolazione che era in parte fuggita, portata via dall'aiuto del Regno Unito, in parte si era riversata nella zona nord dell'isola, che era l'unica zona che era risparmiata dall'eruzione, grazie ad alcune colline che si trovavano a metà dell'isola stessa e che l'avevano probabilmente protetta. L'eruzione continuò a sfogarsi, coprì le zone coltivate, coprì la città, che venne distrutta per più del 90%, coprì anche quello che all'epoca era l'unico aeroporto presente sull'isola, rendendo le cose ancora più complesse, e alla fine si arrestò. Quando molto timidamente una parte dei cittadini di Montserrat cercò di tornare sull'isola, la trovarono semplicemente devastata. L'unica zona abitabile era la zona nord, che però era anche una delle zone in cui viveva meno popolazione fino a quel momento. Si iniziò a cercare di capire che cosa fare di quel gigantesco territorio che era stato coperto, di una capitale che era stata quasi completamente devastata, ma ci si rese ben presto conto che recuperarlo era praticamente impossibile, perché scavare nella lava che si stava solidificando avrebbe richiesto costi enormi, avrebbe richiesto materiali che non aveva senso sprecare, e perché comunque quel terreno sotto la lava sarebbe stato del tutto improduttivo e del tutto inutilizzabile. E quindi l'unica cosa che la popolazione poteva fare fu di abbandonare tutta quella zona, che viene oggi chiamata zona di esclusione, e non ci si può veramente andare, la si può osservare da una piccola zona di passaggio, ma non ci si può recare neanche come turisti in nessun caso, e chiudersi nella parte nord dell'isola, sperando che il vulcano non si risvegli di nuovo e completi la sua opera. Oggi Montserrat ha una popolazione che è più o meno dimezzata. Da 11-12 mila persone ne sono tornate meno di 5 mila. Meno di 5 mila persone che in qualche modo, grazie anche all'aiuto della Gran Bretagna, stanno cercando di ripartire. Hanno costruito un nuovo porto, stanno costruendo un nuovo aeroporto, ma ufficialmente ancora oggi la capitale dell'isola è ancora Plymouth, che ovviamente è una città fantasma, non ci vive più nessuno, ed è quindi in questo momento l'unica città fantasma del mondo che è anche una capitale, ed è questa un po' la particolarità. In realtà una nuova capitale, nuovi uffici amministrativi stanno sorgendo nel nord e probabilmente prima o poi questo primato finirà. Montserrat però, questo piccolo paradiso, e difficilmente si ripeterà, si riuscirà a riprendere completamente. Ci vorrà veramente molto molto tempo. Di solito in questi casi i titoloni sono la Pompei dei Caraibi o cose del genere. A me francamente sono titoli che fanno sempre molto molto ridere, però forse in questo caso rendono l'idea di quello che sia successo. Io mi fermo qua, ringrazio Luca Boffa per avermi fatto scoprire questa storia, io ammetto questa non la conoscevo, a differenza di quella di Centralia ed è stato bello scoprirla. Pensare che questa zona si sia devastata, non so se avete visto le immagini, è ancora spettrale forse quanto Centralia. Decidete voi qual è peggiore. Con cosa possiamo brindare? Beh, visto le origini irlandesi, credo che non ci sia niente di meglio di una bella birra scura, di una bella Guinness. Visto che fa caldo, la birra ci sta assolutamente bene, quindi alla vostra salute e alla salute di quelli che stanno cercando di ricostruire Montserrat e a presto con una nuova Aperistoria. Ciao ciao!